Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato di Avanti Un Altro e non solo. Da quando la moglie Sonia Bruganelli è opinionista al Grande Fratello Vip. Infatti, è inevitabile la domanda su di lei al conduttore. Le prime domande però si sono concentrate sulla nuova stagione di Avanti Un Altro e sulle novità delle puntate. Tra cui nuovi ingressi nel salottino. Bonolis ha parlato quindi dell'attore Clayton Norcross che ha interpretato il primo Thorne in Beautiful e anche del critico cinematografico Marco Giusti che l'intervista è andata avanti in modo giocoso. È stato chiesto a Bonolis di calarsi nei panni dei concorrenti di Avanti Un Altro e di spiegare cosa farebbe lui al loro posto. Quindi il conduttore ha spiegato di essere preparato su quasi tutti gli argomenti. Tranne il gossip e le tecnologie. Le uniche due materie su cui andrebbe in difficoltà. Insomma. Se dovesse scegliere un personaggio dal salottino allora risponderebbe alle domande della Bomber oppure del maestro di Rebus. Lo divertono molto. Anche la signorina Brasile tra i suoi preferiti. Al primo posto dei suoi preferiti però c'è Horror. Il Dracula Nero che con il suo balletto lo conquista di puntata in puntata. E che Bonolis si diverta davvero e in modo sincero con Horror è lampante al pubblico che segue le puntate. C'è un momento che è entrato nei momenti rinunciabili delle puntate ed è quando i concorrenti attingono al lato B del conduttore. O a scelta anche a quello di Luca Laurenti. La cosa diverte molto Bonolis. Che ne ha parlato con un gesto da rock star? Certo. La cosa bella è che funziona quasi sempre. Ha una copertura del 90%. Come il vaccino Pfizer. Gioco a parte. Bonolis sente di essere un uomo fortunato. Tra le sue fortune anche aver incontrato sul suo cammino il maestro Laurenti. Che è diventato un fratello per lui. Poi la domanda con Sonia Bruganelli. Festeggeranno 20 anni di matrimonio questi 20 anni si chiamano nozze di porcellana. E quando lo hanno fatto notare al conduttore. Chiedendogli come intende festeggiarli. Lui ha risposto così. Facendo i porcellani. Ovvio. Occhi alla vocale. Mi raccomando. Per quanto riguarda il GF VIP. Bonolis ha rivelato. Registro le puntate e poi guardo i momenti in cui parla Sonia. Vado avanti con il tasto veloce.